Musica Andiamo da due pesanti sconfitte, subite due straga a zero a Modena in casa con Trento e vogliamo riprendere in mano il nostro cammino, no? E abbiamo subito un test che giocheremo ancora in casa contro Vibo che viene da due bellissime vittorie, hanno vinto Padova e vinto in casa contro Piacenza una squadra che sta giocando bene, che ha cambiato, si vede proprio marcia rispetto all'inizio della stagione quindi è un test perfetto perché giochiamo contro una squadra in salute e noi dobbiamo ritrovare invece la regolarità del nostro gioco Ma sai, la pressione è normale averla sempre, si gioca sempre per vincere nel momento in cui ci sono dei passi falsi, è chiaro che la proprietà, la gente e comunque noi vogliamo sempre vincere, nel momento in cui non ci riusciamo ci facciamo sempre delle domande, no? Però questo va bene perché mi sento che questa è una squadra costruita per cercare di avere in fondo, quindi bisogna usare le sconfitte come sempre step di crescita Grazie a tutti Grazie a tutti